Comizio, vada! I risse sono dei sassi tondi che raccoglievano alla spiaggia e siccome non costavano niente e ce n'erano in abbondanza, hanno fatto la strada qui dietro che si chiama risse perché è fatta tutta di questi cioccoli rotondi che non si consumano mai, sono meglio che i san pietrini ma siccome non avevamo senso di risparmio abbiamo messo il risse, il nome sono centese e abbiamo fatto tutto il nostro ruolo, se poi fai il giro di lì non puoi fotografare e arrivi qui in sopra, quindi sono il risse, è un punto che è successo di fare Grazie, grazie mille